buongiorno anche oggi facciamo i messaggi dagli angeli regina di fuoco sicura di sé calorosa intelligente piena di grazia allarga le ali e spicca il volo non sottovalutarti afferma la tua indipendenza e la tua creatività è giunto il momento di aprire le ali e volare davvero hai sottovalutato te stessa e le tue capacità credi in tutto quello che puoi fare e realizzare attrai spontaneamente a te le persone che possono aiutarti e sostenerti afferma la tua indipendenza e la tua creatività un uomo o una donna dotati di personalità magnetica di buon carattere e che amano la vita qualcuno con una grande sicurezza di sé che è sorprendentemente versatile in termini di talento e abilità attraente caloroso intelligente pieno di grazia capace attivo e convincente difficilmente viene colto di sorpresa altri significati di questa carta sono confida nel tuo intuito equilibrio tra casa e lavoro desiderio di attenzione e riconoscimento questo è il messaggio di oggi degli angeli vi auguro una buona giornata